Hai la testa un po' confusa, il tuo cuor non sa che dire Con l'arte magica ti saprò dire quale via seguir L'oroscopo scomposto di Beppe Channel Buongiorno da Beppe Channel Ecco a voi la classifica, le tue segni sfortunati Di questo 24 giugno In terza posizione sagittario Una lunga serie di insuccessi Potrebbero buttarvi con morale a terra Con nuove scoraggiate Arriveranno nuove opportunità Nuove prospettive Nuove possibilità E nuovi insuccessi Ma è difficilissimo Posizione Capricorno Incontrerai la tua anima gemella Alta un metro e ottanta Molto spigolosa e un po' fredda In pratica no frigorifero Bella questa In prima Posizione Posizione Ok Ok Siete sempre Avvenenati E lo sarete ancora di più Quando scoprirete Che il vostro partner Che il vostro conto in banca Vi è stato prosciugato Ma quanto è l'urso rollo? Che la casa in realtà Non è la vostra E che i bastangini Fintus Accusati In offerta Ero scaduti E da perpeciare E tutto A domani Con il primistrello Di Antonio Manganillo Con la classifica Dei tre segni Più Sfortunati Ciao Ciao